Erano arrivati da Genova Castiglion Fibocchi per chiedere giustizia per Martina Rossi ma all'interno della bagagliaia avevano fumogeni, taglierini e manganelli e sono così scattate sette denunce. Si sarebbe trattato di un gesto di protesta contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che nei giorni passati aveva assolto ribaltando il verdetto di primo grado Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, i due 29 anni di Castiglion Fibocchi a processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa ligure morta alle Baleari il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone della stanza d'hotel dei due giovani aretini. I sette a bordo di un pulmino sono stati controllati all'uscita del casello autostradale di Terra Nuova Bracciolini i poliziotti hanno trovato uno striscione con la scritta Verità per Martina inevitabile il collegamento con il caso della studentessa genovese così gli agenti della Dicos di Arezzo hanno organizzato un servizio di sorveglianza e ieri sera nelle vicinanze del paese hanno fermato il van è scattata la perquisizione e i poliziotti hanno trovato e sequestrato oltre allo striscione un banganello telescopico, un moschettone con un coltello multifunzionale varie bombolette di vernice spray, fumogeni nautici ed alcuni pennelli per il gruppo è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e saranno avviate anche le procedure per l'emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castiglion Fibocchi da quanto emerso le intenzioni degli indagati erano mirate a fare esclusivamente un gesto di solidarietà al padre di Martina che è stato un sindacalista storico dei portuali genovesi Grazie a tutti